E' morti il terribile bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi lungo il raccordo autostradale Ivrea-Santià. Due le vetture coinvolte, di cui una è finita nel fossato che si trova al fianco della strada. La dinamica è ancora da ricostruire e sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine. E' stato utilizzato anche l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato nulla da fare. E' morti il terribile bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi lungo il raccordo autostradale Ivrea-Santià. Due le vetture coinvolte, di cui una è finita nel fossato che si trova al fianco della strada. La dinamica è ancora da ricostruire e sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine. E' stato utilizzato... E' stato utilizzato anche l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato la strada. E' stato utilizzato anche l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato la strada. E' stato utilizzato anche l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato l'elisocorso, ma per le tre vittime non c'è stato utilizzato la strada.